Il conducente dell'auto bianca frena bruscamente il duploscopio di informatica. Istantaneamente InfoDrive segnala la frenata percorrata. Dopo l'arretto della vettura, il conducente segnala manualmente la propria posizione di pericolo, così da rallentare il flusso del trattico, evitando il coinvolgimento di altri autobunni. Pericolo auto in emergenza, riduzione di carreggiato. Pericolo auto in emergenza, riduzione di carreggiato. In questo esempio, il conducente del camion aziona manualmente il dispositivo di prossimità, informando così lo scuola bus, che può evitare di incrociarlo nella furba pericolo.